Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo nuovissimo video news in cui voglio parlarvi di tutte le novità che sono appena state introdotte con l'aggiornamento 2.4.1, l'aggiornamento previsto in vista dell'introduzione del ride furia meccanica in hard mode. Ed iniziamo subito dalle novità più interessanti, come ben saprete con l'arrivo dell'hard mode il livello luce e il cap sarà aumentato a 400, ma fino a stasera alle ore 23, quindi fino a quando non verrà introdotto il ride, non si potrà ancora droppare sopra il 385, se non escludendo i bug che in questa settimana hanno fatto droppare sul 386, 387 o giù di lì. Il cap attualmente è ancora 385 e così sarà fino a stasera alle 23. Hanno già dichiarato come verrà modificato il drop successivamente all'introduzione del cap nuovo. Infatti gli assalti nella playlist Siva dropperanno fino a 365, gli oggettini blu intendo. Nella playlist Eroica Siva dropperanno fino a 385, la forgia degli arconti 385 ma potrà droppare anche spettro, quarte fatto fino a 400, il crogiolo nel complesso quindi stendardo di ferro, prove di osiride e il crogiolo base dropperanno fino a 400, gli ingrammi generali dropperanno fino a 365, quelli leggendari a 85 e quelli esotici a 400, le fazioni, tutte le fazioni fino a 390, aumentata la possibilità di droppare gli artefatti da Iris con i suoi pacchetti reputazione e aumentata anche la possibilità con tutte le fazioni di droppare uno spettro e nel complesso il drop rate rimarrà sempre progressivo, sono a 300 come media di luce si tenderà a droppare sul 301 in su. Andando avanti per quanto riguarda il crogiolo è stata introdotta la modalità inferno eliminazione nelle partite private, corretto un problema per cui cambiando la sottoclasse in orbita si resettava il tempo di ricarica delle granate e dell'abilità corpo a corpo, corretto un bug che riguardava una delle taglie dello stendardo di ferro e corretto un bug per cui nella mappa deriva siderale si poteva andare sotto le scale, inoltre il faro adesso sarà un'area social e ogni settimana dopo aver fatto un 9 a 0 andando sul faro potremo trovare fino a un massimo di 9 giocatori totali, naturalmente giocatori che sono arrivati sul faro, quindi altri vincitori come noi, che possa nascondere adesso anche dei segreti? Non si sa, per quanto riguarda le armi è stato nuovamente corretto quel bug che riguardava il perk libellula che portava a far crashare la console, per quanto riguarda invece le armature è stato corretto il bug che impediva l'attivazione del perk nelle Frost e E5, nuovi stivali esotici del cacciatore, e adesso la mente dell'astrocita, l'aspetto ophidiano e i tagomizzatori si potranno trovare anche negli ingrammi esotici. Inoltre, oltre a una serie di bug fix vari, minori come ad esempio emblemi che non venivano displayati nel terminale o via dicendo, ne troviamo alcuni piuttosto interessanti, per quanto riguarda il raid furia meccanica a volte non venivano droppati i frammenti di chiave siva, questo bug è stato corretto e hanno dichiarato che nella modalità in normal ogni boss dropperà un frammento di chiave siva, in hard mode ne verranno droppati due e al contrario delle ricompense nelle casse, ogni volta che uccideremo un boss con un personaggio, anche se è la seconda, terza, quarta o via dicendo, volta in quella settimana, otterremo comunque i frammenti di chiave. Poi, diversi oggetti relativi ai venti passati, come ad esempio le caramelle nella festa dell'anime dell'anno scorso, sono stati rimossi dal gioco, mentre ad esempio per quanto riguarda la colla che c'era nella festa delle anime del 2015, quindi quella dell'anno scorso, potrà essere scartata per ottenere una polvere d'argento. Parliamo infine degli oggetti che erano stati introdotti invece con l'SRL. Adesso non si potranno più scartare i claxon del Gyalarorn per ottenere quell'oggetto consumabile che trasformava i claxon da rari a leggendari, e di fatto questi oggetti non potranno più essere utilizzati e scartandoli si potranno ottenere 15 unità di polvere d'argento. Personalmente però continuo a riscontrare problemi per quanto riguardano i claxon, infatti nell'apposito terminale a fianco ad Amanda Holiday, tutti i claxon che ho ottenuto e che eventualmente ho cancellato non li posso più recuperare da nessuna parte, nel terminale non risultano. E onestamente spero che questo sia soltanto un problema che in futuro verrà risolto. Ultima notizia, ultimo annuncio prima di salutarci. Nella Torre Nord è stato aggiunto un nuovo terminale, che conterrà gli oggetti relativi alle festività. Per il momento sono presenti soltanto le maschere che si potevano ottenere durante l'evento di Halloween dell'anno scorso. L'introduzione di questo terminale però mi fa pensare che ne potremo vedere di nuove in arrivo con un evento che probabilmente verrà introdotto nelle prossime settimane, per l'appunto in vista di Halloween. Dunque ragazzi, per quanto riguarda questo video news dedicato alla patch 2.4.1 è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e il vostro gradimento. Pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivervi se non lo aveste ancora fatto, condividere questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!